Qualcuno di voi si starà chiedendo come ho fatto a mettere insieme After Hours, Verdenna, Teatro degli Orrori e Bacchita Pietra e di fatto io non so rispondere ma di sicuro devo questo a Giulio Ragno Favero appunto del Teatro degli Orrori che mi ha aiutato a mettere insieme questa super band per una colonna sonora straordinaria, densa e piena di sensibilità e di emozione e che regala al film sicuramente una temperatura e una dimensione totalizzante grazie anche alla partecipazione naturalmente di Filippo Nigro che presta la sua voce, la sua immagine, il suo corpo a questa dimensione immateriale attorno a cui ruota tutto, che è appunto questo amleto del 1921 che conserva in sé un mistero e che di fatto verrà svelato solamente alla fine, cioè che è una donna. Buon divertimento!